pace e bene a tutti e santo natale un augurio un abbraccio a quanti siete in ascolto da parte di tutti noi missionari e missionarie della via ecco oggi mediteremo sul testo che ci propone il vangelo secondo luca che in realtà è una unità va capitolo 2 versetti 1 20 noi staremo soprattutto sui primi 14 il vangelo della notte ma se riusciremo diremo qualcosina anche sugli ultimi sei versetti aprendoci a questa gioia incredibile qualcuno diceva che il vero stupore non è l'uomo che è andato sulla luna ma dio che è sceso sulla terra anzi che dio si è fatto uomo uno di noi ecco perché sant'agostino in una sua omelia diceva svegliati o tu che dormi destati dai morti e cristo ti illuminerà citando san paolo per te dico dio si è fatto uomo saresti morto per sempre se gli non fosse nato nel tempo non avrebbe liberato dal peccato la tua natura se non avesse assunto una natura simile a quella del peccato una perpetua miseria ti avrebbe posseduto se non fosse stata elargita questa misericordia saresti perito se non fosse venuto perciò san leone magno diceva il nostro salvatore oggi è nato rallegriamoci e la causa della gioia è comune a tutti perché il nostro signore non avendo trovato nessuno libero dalla colpa è venuto per liberare tutti esulti il santo perché si avvicina al premio gioisca il peccatore perché gli offerto il perdono riprenda coraggio il pagano perché è chiamato alla vita con questa gioia dunque nel cuore entriamo in questo testo cercando di coglierne alcuni spunti potremmo usare due parole stupore e dolore che velano accompagnano il natale anzitutto abbiamo detto lo per questo evento meraviglioso di dio che si fa uomo se andiamo al testo del vangelo c'è un contrasto che luca pone in evidenza da una parte abbiamo il governatore della siria che fa questo censimento ecco il censimento cos'è è uno strumento con cui chi è al potere cerca di quantificare quanti uomini ha sotto quanti terreni a per poter così imporre le tasse capire che forze militari può avere insomma per il potere quindi da una parte abbiamo l'uomo che cerca di avere tutti e tutto tra le mani abbiamo la pace su tutta la terra dice il vangelo ma la pax romana quella di un dominatore che si impone sugli altri tutti stanno sotto ecco mentre l'uomo cerca di tenere tutto tra le mani il contrasto nel più piccolo e sperduto paesino dio si fa piccolo e si mette nelle mani dell'uomo e quale dio si fa uomo forse il dio dei nostri pensieri delle nostre proiezioni un dio così narcisista un dio potente un dio che appare già adulto tra gli squilli di tromba che è venuto giusto a farsi una passeggiata tanto per farsi così un tempo di ferie sulla terra no si fa bambino e attenti non è che si è fatto bambino ma già parlava già scavalcato la natura si fa bambino l'infinito l'onnipotente il verbo eterno del padre colui per mezzo del quale tutto è stato fatto di raggio vanni si fa piccolo i padri dicevano si restringe si fa bisognoso di tutto di essere allattato nutrito di imparare a vivere di imparare a parlare ci pensate la parola deve imparare a parlare deve imparare a lavorare deve imparare a vivere da uomo dio è tremante e non tremendo non vuole avere tutto tra le mani ma si mette nelle nostre mani e chiede l'amore si offre indifeso e questo cosa ci dice ci dice che scommette su di noi perché uno che si mette nelle mani dell'altro vuol dire che si fida dell'altro vuol dire che ritiene degno di fiducia l'altro dio si propone così bisognoso d'amore che chiede amore fiducioso nelle sue creature e questo è bellissimo perché se uno immagina questo bambino che viene donato non solo tra le braccia di maria ma tra le nostre braccia quello stesso dio che riceviamo sulle nostre mani o meglio nella nostra bocca nell'eucaristia che si dona a noi che dice ti amo come sei che dice mi fido di te qualcosa di meraviglioso perché perché la prima esperienza del natale è l'amore e fare esperienza di quest'amore che noi tante volte feriti nella nostra vita non abbiamo sperimentato come avremmo voluto tante volte le mosiniamo qui e lì e mentre facciamo a gara per essere qualcuno per svettare per imporci sugli altri mentre elemosiniamo il nostro valore mentre cerchiamo che gli altri ci diano il diritto ad esistere perché ci reputano belli bravi fruibili intelligenti dio si mette tra le nostre mani e dice ecco quanto ti amo al punto da affidarmi da consegnarmi a te verrà deposto dice luca in una mangiatoia ecco con un verbo simile anzi lo stesso che luca usirà poi nell'ultima cena quando gesù si siederà a mensa e dirà questo è il mio corpo dato per voi mangiatene come il corpo ha bisogno del cibo la mente ha bisogno di nutrirsi col sapere l'anima ha bisogno di nutrirsi con l'eternità con l'infinito con l'amore di dio con dio stesso questo mistero grande d'amore ecco che apre i nostri cuori allo stupore e quando uno si scopre amato e quest'amore pian piano penetra nel cuore pian piano mediando la sua parola nella preghiera tingendo i sacramenti tu ti riscopri amato risboccia la tua vita perché già in natura quando vivi in un contesto dove percepisci amore ti apri sbocci cresci sei te stesso non vivi più in difesa nella paura di ma nella gioia di donarti dall'altra parte vi dicevo è anche dolore perché perché vediamo una scena che sin dall'inizio è tutt'altro che idilliaca come a volte abbiamo infarinato di sberluccichi luminosi con i nostri presepini tutti belli agghindati cosa bellissima ma se ci pensiamo una scena estremamente dolorosa cioè maria e giuseppe sballottati per questi capricci del potente di turno che sono costretti a partire ad andare fino a betlemme arrivati lì non trovano posto sono costretti a finire in un luogo dove stavano gli animali e lì la madonnina è costretta a partorire il benvenuto dell'umanità a dio e stai fuori cosa che purtroppo spesso accade anche nelle nostre vite ma vedete entrando nella scena del dolore già una prima cosa bella da dipingere da avere sotto gli occhi è che mentre il governatore mentre c'è una storia negativa quindi mentre ci sono fatti duri dio nasce proprio in quei fatti e il fatto che giuseppe si debba spostare andare da nazareth a betlemme diventa l'occasione perché si compiano le scritture che da betlemme sarebbe arrivato il messia vedete una cosa meravigliosa ci fa aprire il cuore perché perché anche gli eventi dolorosi della nostra vita messi nelle mani di dio possono essere tutti occasione di una più grande provvidenza non c'è nulla da buttare via anche le cose più dolorose forse non l'abbiamo ancora scoperto ma sono occasioni di una grazia anche le cose che non capiamo che ci hanno fatto male possono essere occasioni per crescere nell'amore di dio per capire servire meglio il nostro prossimo dicevamo dunque una scena di dolore arrivano esclusi e scartati tante volte dio non trova posto nella nostra vita trova già una casa piena un alloggio occupato non sappiamo chi non li ha accolti parenti di giuseppe forse amici forse conoscenti forse comunque non vengono accolti partendo da un dato spirituale spesso dio non trova posto nelle nostre vite perché già pensiamo di fare da soli non trova posto nelle nostre giornate perché la preghiera è un optional ci sembra a volte l'ultima cosa da fare dopo tutte le altre urgenze impellenti tutte le faccende che non finiscono mai ma qui il problema nel vangelo è che quelli che non trovano posto quello che non trova posto non è un dio spirituale o qualcuno che si presenta come dio se pensate alla scena non trovano posto una ragazza di 15 anni e quello che era il suo sposo giuseppe che secondo i matrimoni del tempo doveva avere tra i 18 e 25 anni quindi non trovano posto due giovani lei con le doglie del parto perché secondo le regole del tempo poi diventava impure mettersela in casa era un problema insomma non trovano posto due poveri dentro i quali c'è dio in maria c'è la presenza viva di dio vedete tante volte dio continua a essere scartato negli altri uno potrebbe dire noi non l'avremmo mai fatto ma il problema è che in matteo 25 gesù ci ha detto che quello che facciamo agli altri lo facciamo a lui dio da quando si è fatto uomo si è unito a tutta la natura umana ed è presente in ogni uomo in ogni donna e noi tante volte lo scartiamo negli altri pensate che in un dizionario di lingua italiana tra le varie definizioni di scarto c'è persino persona dalle poche capacità di scarsa abilità cioè secondo una certa cultura la persona che non è capace uno scarto la cultura dello scarto di cui ci parlava papà francesco per cui se la borsa crolla ci disperiamo se un barbone muore di freddo nessuno lo sa quante volte dio è scartato in quelle persone che ci scomodano in quelle persone che ci danno fastidio in quella persona che non ci tratta come noi vorremmo in quella persona che non ci ricambi quella persona che non è come noi la vorremmo in quella persona che ha bisogno non vogliamo essere scomodati questa scena ci dice che dio vuol trovare posto che ogni persona ha diritto di trovare il suo posto di sentirsi accolta e amata quante volte scartiamo dio nel rapporto con lui diretto nella preghiera ma quante volte lo scartiamo nel nostro prossimo ma gli angeli annunciano ai pastori oggi è nato per voi un salvatore che è cristo signore l'annuncio meraviglioso oggi è nato per voi oggi è nato per te qualcuno ha pensato a te qualcuno vuole la tua salvezza qualcuno vuole cambiare il cuore renderti capace di amare e i pastori vanno e contemplano questo prodigio e lo annunciano pieni di gioia che sia la nostra gioia di scoprirci così amati e che quest'amore cambi in profondità il nostro cuore perché chi è dio e concludiamo come si presenta a noi quel frugoletto di tre chili che tanto faceva commuovere san francesco al punto da inventarsi il presepe per contemplarlo meglio e quel dio che si abbassa per innalzarci tutti che offre amore che chiede amore ed è proprio quel bambino che ci salva che ci fa diventare dio diceva silvano fausti perché la salvezza dell'uomo è diventare ciò che è somiglianza di dio che è amore e quando capiremo che persino l'ultimo dei fratelli il piccolo il forestiero l'immigrato il carcerato quello poco capace come ci dice gesù in matteo 25 dio è lì presente noi saremo salvi e diventeremo veramente umani e allora pace e giustizia si baceranno e gli angeli continueranno a cantare gloria a dio nell'alto dei cieli e pace agli uomini che egli ama pace e bene